Io mi auguro di sì. Noi abbiamo avuto oggi una riunione informale, subito prima di questa presentazione ufficiale, giusto per conoscerci tra componenti della consulta. Voi sapete meglio di me che la consulta rappresenta varie realtà del Trentino. Da quello che ciascuno dei componenti della consulta ha detto, la mia percezione è che in effetti ci sia molta attesa e che molte componenti della società trentina abbiano voglia di dire da loro di essere presenti e di contribuire ad una nuova costruzione. Questa è l'impressione che ho avuto oggi. Mi auguro che anche nel seguito del lavoro ci sia una continua partecipazione. Grazie a tutti.